Come mai Giulia Stabile non fa parte del cast di Amici quest'anno e cosa fa oggi a Londra? La verità sull'ex vincitrice del talent Dopo aver conquistato il cuore di milioni di telespettatori vincendo la precedente edizione di Amici, Giulia Stabile ha intrapreso un nuovo percorso che l'ha vista allontanarsi temporaneamente dal palcoscenico che l'ha reso famosa La ballerina, entrata a far parte del cast dei professionisti del talent show, ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla formazione e al perfezionamento della propria arte Amici, perché Giulia Stabile è assente e cosa fa oggi.Durante le prime puntate della nuova edizione di Amici, i fan hanno notato l'assenza in studio di Giulia Stabile La ballerina si è collegata in diretta da Londra, dove sta seguendo un intenso programma di lezioni finalizzate a migliorare la sua tecnica Questa scelta ha suscitato curiosità e domande tra il pubblico, desideroso di sapere se e quando Giulia tornerà ad essere parte attiva dello show Giulia Stabile non ha mai nascosto il suo desiderio costante di crescita professionale La decisione di trasferirsi temporaneamente a Londra rispecchia questo suo impegno nel volere esplorare nuove opportunità formative che possano arricchire ulteriormente le sue già notevoli capacità artistiche Nonostante la distanza fisica dalla scuola che l'ha vista trionfare, Giulia rimane profondamente legata ad Amici e al suo pubblico Nonostante gli impegni attuali a Londra tengano Giulia lontana dal palcoscenico italiano, la ballerina non ha annunciato alcun addio definitivo ad Amici Al contrario, sembra che ci siano già piani per un suo ritorno nella fase finale del programma Inoltre, è prevista la sua partecipazione alla finalessima del programma Tu si che vales, un altro importante appuntamento televisivo italiano, dimostrando così che il legame con il pubblico italiano resta forte e vivo La prospettiva del ritorno di Giulia nelle fasi cruciali della competizione accende ulteriormente le aspettative dei fan La sua presenza non solo come ballerina ma anche come figura capace di ispirare gli allievi più giovani rappresenta un valore aggiunto significativo per lo show Le sue performance sono sempre state caratterizzate da una forte carica emotiva e tecnica impeccabile, elementi questi che mancano ai telespettatori affezionati